Fischietti in bocca ed è iniziata Barano, oratore Don Guanella, con il rilancio profondo, impreciso, il pallone a Napoli, che poi va a centrale, gran tocco da parte di Pellecchia per il destro, alto, e poi Cantelli, grande dribbling in mezzo a due, e poi con l'esterno prova a far correre Invernini, grandissima giocata di Cantelli per Invernini, che però si lascia ipnotizzare da Monteleone. Poi ancora Napoli, tunnel, riesce a passare su Annunziata, grazie a un rimpallo, cross per il colpo di testa, per Di Meglio, centrale da Saurino, tocca per Invernini, con il tacco da D'Antonio, che prova a passare in mezzo, non ci riesce, vorrebbe un fallo. Conte però anticipato, allora Amattera, osserva Castaldi, traversa, che prova ad accelerare, Invernini si prova a girare, riesce a tenere, messo giù, calcio di rigore per il Varano. Che arriva ora, parte, Conte, spiazza Monteleone, e dopo 30 minuti, proprio alla mezz'ora, il Varano passa in vantaggio. E allora Annunziata, se ne prova a andare, tocco per Invernini, ottimo, 1-2, doppio, 1-2! Che gol di Invernini, giocatona da parte del Varano. Trofa, riesce nel controllo, riesce anche nel dribbling, poi cross sul secondo per D'Antonio, gran controllo, poi Conte si coordina. Poi Mattera, Chianese, tocco per Pellecchia! Comunque tutto fermo, c'è fuori gioco. E allora è iniziato il secondo tempo tra Barano e Oratore Don Guanella-Scampia. Però non è riuscito a fare niente, poi il pallone per Invernini, non c'è fuori gioco, c'è Saurino! E c'è il miracolo di Monteleone! Poi Chianese, libero di inventare, inserimento al sinistro! C'era fuori gioco, va sull'interno, prova a saltarli tutti, prova poi lo scambio che non arriva, Conte destro piazzato! Poi Conte, bello il dribbling e poi invenzione, pallone che arriva a Trofa, controllo un po' trattenuto! E infatti ci va, colpo di testa, miracolo! Montano annunziata, ora arriva il fischio, Cantelli, teso in mezzo, colpo di testa! Vincente, proprio di annunziata! Poi il pallone girato indietro, un po' così così, Sorrentino, dribbling, Sorrentino! Ci ha messo un minuto! Il primo pallone di Sorrentino è subito una magia, punta su punta tutti! Sorrentino poi decide di fermarsi e di andare in orizzontale, dal sinistro! E arriva uno, arriva due e arriva tre! Arriva il tripice fischio del direttore di gara, inizia in maniera perfetta la stagione in promozione del Barano 4-0 all'oratorio Don Guanella Scampia! Grazie! Grazie!